Simone de Cé, tu avevi un buon season un anno fa, quindi sei più confidante? Non lo so, dipende davvero dal vintero. Sì, sono felice con la mia ultima season, ma ora vedo un nuovo. E oggi è buono vedere dove possiamo progressare per essere migliori nella prossima season. Ci sono molti fanci qui qui, credo che sei felice. Il Biathlon è crescita qui in Francia. Sì, il Biathlon in Francia è alto per l'anno. È buono essere in contatto con i fani francesi. E oggi c'era un'atmosfera incredibile in Anci. È divertente essere qui. La season è molto in fronte di noi. È buono di prendere molta energia in questa rossa per la prossima season. Qual è il tuo target per la prossima season? Il mio obiettivo per la prossima season sarà il World Championship in Nantes. Mi piace molto questo stadion. Il mio obiettivo per la prossima season sarà il mio obiettivo per la prossima season. L'ultima domanda. Do you think Martin could win against Giannis Bottice? Sì, sicuramente. Ho sperato. Ho sperato. Ho sperato di progressare insieme. È molto bello di venire un giorno. Ma Martin è un ottimo champion. Ho sperato di venire questo winter. Grazie mille.